Giancarlo Simeroli Il vento è instabile, la seconda prova un po' più di vento, soprattutto la prima parte, la seconda parte è calato il vento e è risaltato, in effetti la barca di Paolo Brinatti ci ha superato, l'ultima poppa, siamo stati un po' distratti noi ma dovevamo scegliere un lato del campo, abbiamo scelto purtroppo il lato destro, abbiamo perso il contatto con lui e ci ha superato proprio all'arrivo. Mentre le altre due prove sono state gestite abbastanza bene, buone le partenze, ottimo il comitato che è riuscito a tirare fuori tre prove da una giornata come questa. Santa Variella si propone sempre come il miglior campo invernale, soprattutto invernale in Italia e devo dire un campionato che porta sempre tanta gente in questo posto, abbiamo un sacco anche di derive che stanno venendo qui. Il livello si sta alzando, il parco barche sta aumentando, la classe è una classe che funziona, non abbiamo nessun problema, abbiamo questo nuovo presidente che sono certo che porterà delle grosse innovazioni nella classe, è un consiglio direttivo capitanato da Paolo Brinati che sta lavorando molto bene, la stagione si è aperta dal punto di vista di organizzazioni e di località, noi siamo prima classe e cercheremo di essere sempre primi in tutto. Dopo il campionato invernale a quale altre legate parteciperete? Cerchiamo di fare il circuito indubbiamente, certo è un anno un po' difficile ma non certo lasceremo ora, sono dieci anni che cerchiamo di portare sempre a casa tutte le prove del campionato, cercando di farle tutte, certo quest'anno sicuramente abbiamo un impegno maggiore perché la classe va proprio sostenuta in questo momento qui. Ora stiamo andando bene, anche gli altri soci, gli altri armatori hanno capito che l'importanza è stare uniti, stare in un posto piacevole per tutti, di non spendere troppi soldi e soprattutto di fare sempre le legate a livello, diciamo sia con un livello sportivo ma soprattutto con un ambiente sereno. Dieci anni di S24, lo scorso anno il campionato italiano è sfuggito per un pelo, quindi possiamo dire che l'obiettivo di quest'anno invece è riportare in casa il titolo di campionato italiano? L'anno scorso abbiamo fatto tutte le prove del circuito in maniera molto buona, l'italiano ci ha sfuggito, ma le legate sono così, non sarebbe neanche giusto se andassimo sempre troppo bene, vorrebbe dire che non c'è competizione, invece la competizione c'è, se arriviamo davanti siamo molto contenti, se arriviamo dietro siamo contenti per gli altri, ma cerchiamo di lavorare per batterli. Grazie a tutti.